Siamo i figli a casa, siamo qui per i nostri figli! Scendete tutti! Ehi, vado! Vado! Che è successo tu? Vado! Vado! Ehi, non ci manca niente! Vado! Calvino! Liberate lo stesso, non stiamo sottolineando. No, no, è una litiata per cunho! Ci mettete nel centro! Lavoro! 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 bravi 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 bella laura siamo in un bel mezzo c'è gente ovunque un casino ovunque fuori via partenove proprio una marea di gente una manifestazione bellissima ecco qua hanno bloccato proprio tutto siamo fuori all'hotel santa lucia la volezia li sta caricando ma lì gatti davanti la volezia la volezia la volezia la volezia Grazie per la visione!